Del Piero, parte Alex, Del Piero, pallone alto, era comunque sulla traiettoria Sorrentino. Sardo, lancio lungo, Chiellini, attenzione, Pellissier, Pellissier, supera Buffon, Pellissier! Gol dell'1-0, Chiamo che passa al venticinquesimo, ingenuità della difesa, punisce Sergio Pellissier. Camoranesi, trova il dribbling, Marcolini su di lui, trova lo spazio per il cross Camoranesi, Iacuinta, sponda Del Piero, poi deviazione di Iepes. Giovinco, parte il suo cross, Chiellini a saltare, nel mucchio prova a recuperare Camoranesi con il tacco addirittura, Chiellini, Chiellini, gol dell'1-1, l'invenzione di Camoranesi, la conclusione da centravanti di Giorgio Chiellini, il pari della Juve. Giovinco può struttare la sua velocità, Pinzi non molla, Giovinco trova Chiellini, in posizione inusuale, avanza Chiellini, può allargare per Del Piero, in fronte di Goni, Del Piero lo punta, Del Piero fino in fondo, Del Piero, sinistro, Sorrentino dice di no. Parteggio Vinko, direttamente in porta, era andato a volare Sorrentino. Pallone dentro, attenzione ancora per Pellissier, la velocità di Pellissier che brucia Melberg, Pellissier! Pellissier, doppietta per lui, ancora Sergio Pellissier! Molinaro, lì vicino Giovinco, parte il cross di Molinaro, lunghissimo, colpo di testa di Camoranesi e Nete! Nete! C'è stato probabilmente un autogol, gol del 2-2, il pari della Juve, importantissimo! Di certo è un autogol, tanto va! Zemmina prova il dribbling, lascia partire il cross, dentro Giovinco, Sorrentino salva il Chievo, forse aveva spinto Giovinco, Sorrentino è riuscito a salvare. Attenzione ancora Giovinco, Treseghe! Pallone che esce di nulla, vicinissimo al gol del 3-2, come cambia una partita, incredibile! Tocco di Giovinco, Treseghe! Sorrentino! Bravissimo! Sorrentino sta salvando il Chievo adesso! Tiago, il suo controllo, lì vicino, ancora Tiago, la possibilità di mettere dentro, colpo di testa di Chiellini! Che spiega ancora una volta il gol! Mauro Camoranesi, le finte, tocco dentro, morbido, colpo di testa di Nete! Vincenzo la quinta, 3-2, la Juve trova il gol! Vangella fino in fondo, attenzione, Pellissier! 3-3, incredibile, la giornata di Pellissier, arriva il pareggio dell'attaccante del Chievo. Finisce qui, finisce qui, finisce 3-3 tra Juventus e Chievo, un punto importantissimo per la squadra di Di Carlo. La Juve perde una grande occasione, era riuscita in qualche modo a reagire dopo essere andata sotto 2-1. Aveva trovato il 3-2 con mia quinta, ma era la giornata di Sergio Pellissier che ha realizzato una tripletta. Lui, l'uomo partito Sky.